amici di special news bentornati puntata numero 14 eccoci qua in studio anche michele gasperini come stai mike allora per precisione è gasparini che ho detto con la a non con la a non sono non sono il mister scusa mister perdonami michele gasperini amore fatto apposta mi dico mai gasparini è qua con noi come stai mike come stai tutto bene benissimo mike abbiamo giocato col piacenza sabato partita complicata a sorpresa però diciamo che vi posso spiegare il risultato meglio di no vediamo gli lecce Grazie a tutti. 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 Saluta Pila dai. Saluta. Questo, questo. Saluta, saluta. mamma mia saluta vale vieni qua avanti e ritorno no no lo prendo lo prendo quando parto bravo e non sta più bello pure continuo ovviamente in calciomercato perché gennaio è il mese delle trattative cosa ribolle in pentola lo scopriamo dal servizio Mike lancia il servizio il servizio del mercato andiamo a vedere il calciomercato ciao Ciro benvenuto nella famiglia dei Leoni del Garda arrivi in una squadra prima in classifica in un club ambizioso con valori importanti cosa e come ti hanno presentato la Feralpi Salò Daniel Altobelli ho parlato l'anno scorso a Castellammare mi ha parlato bene della società della piazza di tutto per questo che sono venuto in una grande squadra e una grande società Carlo benvenuto nella famiglia dei Leoni del Garda le tue prime impressioni grazie buonasera niente veramente sono arrivato qua due ore fa e ho trovato già ambiente veramente sano e ben organizzato già vedo come ho visto la struttura e tutto e quindi veramente non vedo l'ora di cominciare il nostro Leo piace sempre di più nasce per ora solo come dire una piccola collaborazione in vista delle ultime festività Almonature ha deciso di regalare un pack con dei prodotti fantastici dedicati ovviamente alla nostra mascotte la prima del calcio italiano vediamo anche le foto in sovraimpressione quindi perché no questo inizio di dialogo con una grande azienda del settore pet food potrebbe anche aprire nuovi scenari quindi grazie di cuore Almonature Fondazione Cappellino speriamo di rivederci anche nel 2023 bene Mike allora grande Leo che ovviamente continua il progetto continua a crescere c'è anche stiamo vedendo anche una tua bellissima foto di Leo che hai rivisto qua allo stadio gli vuoi molto bene al nostro Leo il 13 però sono ripresi anche gli allenamenti del team senza di me che gioco è siamo venuti anche a fare delle immagini qualche battuta con i protagonisti raccontaci mai com'è stato il primo allenamento come vi siete anche preparati per tornare in campo perché poi a febbraio c'è il campionato sì esattamente allora innanzitutto visto che adesso ricomincia tutto il progetto del DCPS paralimbico sperimentale per indicazione per i disabili vabbè ti siete molto in forma durante le vacanze un pochino forma di testa però eri sempre sul pezzo concentrato ci aspettiamo una una stagione limpida intensa molto faraonica le vediamo di riuscire a strappare il pass per le regionali sarebbe bellissimo Mike e siccome siamo in ultima condizione non c'è da dire niente perché è una squadra molto iconica e claudata dei ragazzi direttamente simpatici che hanno costruito emozioni su ogni cosa e un grande staff anche un grande staff non c'è da dire niente e soprattutto mi hanno fatto bene a fare le nuove innesti di mercato sono arrivati nuovi ragazzi che vogliono provare a fare i piccoli passi intorno a un pallone quindi Mike ricapitolando perdonami obiettivo sportivo accedere alle regionali che sarebbe una grandissima cosa e anche grazie ai tuoi gol mi sembra che insomma sia un obiettivo fattibile l'altro obiettivo quello forse più importante è il divertimento giusto l'inclusione rispetto chi ci dice sempre Fabio Iacchetti un grandissimo uomo grandissimo collaboratore collaboratore e tutti gli altri che sono strabilianti non c'è da dire niente poche parole voglio dire ovviamente quello che ci aspettano loro è di che noi ci divertiamo certo importantissimo come vuole dire anche il mister ovviamente adesso riparte l'allenamento il primo giorno che riprendono l'attività è il venerdì 13 gennaio si certo è iniziato è bellissimo quindi faremo fatica sicuramente grazie a me che ho portato delle vittorie consecutive tra l'altro in due giornate ho collezionato 5 assi e 7 gol importantissimo però perdonami tu sei hai fatto benissimo però il gioco di squadra è importantissimo giusto nessun giocatore vince da solo giustamente sono d'accordo con te Matteo ma soprattutto le prestazioni e le emozioni sono due cose che richiedono i tecnici i collaboratori dei fessi perché c'è qua perché sono più sono una cosa un po' più energetica su un aspetto fondamentale il rispetto che ci dice ovviamente è di giocarsi di giocarsela e con il sorriso puoi arrivare dovunque assolutamente ricordiamo che voi vi allenate al centro sportivo Rigamonti che salutiamo giocate i test ufficiali al centro sportivo Bottagisio di Verona ti ricordi con chi saranno le prime partite allora le prime partite diciamo che più o meno sono sempre quelle perché c'è il verso quindi già li conoscete un po' gli avversari sì a parte che sono avversari non troppo sono come dire affrontabili affrontabili però diciamo che tra il verso il calcio veneto i Bottagisio a parte che abbiamo sempre quelle di avversari ma c'è sempre da rispettarle perché ovviamente totalmente diciamo che Mike riassumendo la sioma con cui affrontare questo 2023 è sogno emozione motivazione esattamente perfetto allora salutiamo tutti gli amici la puntata 14 si chiude Mike voglio il tuo cuore il tuo bacio il tuo abbraccio fai un gesto anzi la scorsa puntata c'è inserato un nuovo gesto al mio 3 lo facciamo insieme ci vediamo giovedì il prossimo 20 e 15 te ne è tutto e youtube farà il pisano tv ciao a tutti sempre forza leone del gara ciao a tutti i